In Serie D la decima di ritorno ha confermato che la lotta per il vertice fra Matelica e Pesaro corre sui binari di un'inerzia che depone a favore della squadra allenata da Luca Tiozzo. Si è verificato per la seconda volta in due settimane un caso emblematico, cioè un contestuale pareggio interno dei primi della classe e del Pesaro contro squadre di bassa classifica come rispettivamente Fabriano e San Nicolò. Il tutto non può che giocare a favore del Matelica che così guadagna un turno verso la fine dei giochi, ma il Pesaro davvero deve appurare la veridicità delle proprie ambizioni. Lega pro o meno, nel primo caso non si può certamente inseguire il Matelica ma poi pareggiare senza reti in casa contro il San Nicolò con tutto il rispetto per gli abruzzesi. La decima di ritorno ha confermato il momento d'oro sia della Vezzano che ha battuto il Francavilla e staziona con stabilità al terzo posto che della Recanatese alla seconda vittoria consecutiva e al dodicesimo gol segnato nelle ultime tre giornate. Ieri i marchigiani hanno inflitto un pocherissimo al malcapitato Castelfidardo. Appassionante la lotta per la salvezza diretta, l'Agnone è informissima grazie al settimo punto in tre giornate ed il primo successo esterno della gestione di Meo. Da ieri ha preso concretezza il cosiddetto sbarramento ma è una situazione parziale. Esiste una differenza di otto punti fra la terz'ultima, il Monticelli, e la sest'ultima, cioè proprio l'Olimpia agnonese con questo quadro Alto Molisani-Salvi e Monticelli in eccellenza con un solo play-out da disputare, cioè quello fra la Jesina ed il San Nicolò. Questa la situazione ma in palio ci sono ancora 21 punti disponibili, un tesoretto che può variare da un momento all'altro lo stato dell'arte. Il Campobasso riprende a correre domani in vista del San Marino che appare in caduta libera dopo due K.O. consecutivi ma che ha dimostrato numeri alla mano di valere più in trasferta che a domicilio. Intanto l'attaccante Augustus Cargbo al torneo di Viareggio ha rimediato un infortunio al flessore proprio mentre la sua squadra, la rappresentativa di Serie D, ha guadagnato il pass per gli ottavi di finale come migliore seconda del raggruppamento A. Per il Campobasso società rimane la gioia per la convocazione del baby talento accompagnata adesso dal vivo rammarico per il suo stop. Ad ogni modo Foglia Manzillo cercherà di recuperare anche del Duca, il cui infortunio si è rivelato meno grave del previsto, e Marzano ormai sulla via della guarigione.